Oggi è... Abbiamo cominciato adesso a caricare le nuci. Come si stacca? Come si spende? Come si stacca a caricare le nuci. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora è perfetto perché copri il piedistallo là e quando sposti la testa entra e esce la luz. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.